Io non gioco con il mio risparmio. Io non perdo tempo con chi non vuole conoscermi. Io non affido i miei progetti a chi mi prospetta investimenti facili. I vicentini lo sanno. Io scelgo una banca di credito cooperativo che mi dà sicurezza, affidabilità ed è sempre vicina al mio territorio. Se vuoi una banca che sia davvero tua, fai una scelta differente. Banche di credito cooperativo e casse rurali della provincia di Vicenza. Tipicamente e realmente Vicentine